Ancora un'aggressione in un carcere, stavolta a Pescara, dove un gruppo di tre detenuti ha rubato le chiavi a un agente di polizia penitenziaria che ha riportato escoriazioni e poi ha aggredito un ristretto pare per un debito. È accaduto ieri nel carcere del capoluogo adereatico la denuncia di Giovanni Calzone, segretario provinciale OSAP, che evidenzia la gravità di questo ennesimo episodio tra carenza di organico e di contro sovraffollamento dei detenuti. Ma cosa è accaduto ieri? Lo racconta al nostro microfono. Nella giornata di ieri dei detenuti ristretti nel reparto penale sono riusciti a raggiungere il piano terra approfittando comunque di vari movimenti che ci sono all'interno del carcere, naturalmente tutti i regolamentari, i detenuti erano aperti in orario normale in cui risultano aperti, sono riusciti ad arrivare al piano terra e hanno aggredito il collega che stanziava in quel momento in quel reparto, prendendolo dal collo, sono riusciti a strattonarlo e sfilargli le chiavi di mano. Il collega anzi è stato fin troppo professionale che ha lottato per non abbandonare le chiavi. Nel frattempo un altro collega chiamava l'allarme. Questi detenuti però sono riusciti a strappargli le chiavi, appunto entrare in una stanza e diciamo avere una collutazione con un altro detenuto, pare per motivi economici, fino a quando sono per fortuna giunti in brevissimo tempo i colleghi che hanno ricevuto l'allarme e siamo riusciti a separarli. Il problema resta soltanto che questi eventi ormai sono quasi all'ordine del giorno, non di questa gravità per fortuna perché saremmo allo sbando, però ormai al giorno succedono 5-6 eventi critici, cioè siamo arrivati al punto che il personale si trova ad affrontare sempre difficoltà di questo genere, tutti i giorni ormai. Cosa chiedete in sostanza? Sì, la carenza del personale ormai è arrivata a dei numeri insopportabili. I detenuti ormai sono vicini quasi alla tolleranza massima della struttura, superando quasi più del doppio la capienza massima che abbiamo, ma soprattutto i limiti di questa struttura sono appunto una presenza di una scala solo che non permette la suddivisione dei detenuti delle varie aree, cancelli che vengono aperti troppo facilmente facendo forza, strutture, telecamere rotte e non più aggiustate. Il personale si trova ad affrontare tutte queste problematiche oltre alla carenza e all'aggressività dei detenuti perché tenete conto che in questo carcere vi è una resezione a TSM per la salute mentale, abbiamo solo due psichiatri, pochissimi infermieri e tantissimi detenuti, nonostante solo i sette posti in psichiatria, abbiamo più di 70 circa detenuti che hanno comunque delle situazioni psichiatriche molto complicate e quindi soggetti anche che a volte si rivelano molto violenti. Siamo tutti preoccupati per questa situazione, soprattutto sia perché comunque la pena deve essere, non deve essere diciamo una punizione extra oltre alla sentenza diciamo, e il personale deve lavorare in sicurezza, deve permettersi la sera di tornare a casa dalle proprie famiglie, sano e senza problematiche di nessun tipo. Naturalmente anche gli altri sindacati di categoria sono intervenuti, il SAP va all'attacco per bocca del segretario regionale Giuseppe Nino e provinciale di Pescara Giovanni Scarciolla. Il carcere di Pescara, dicono, è stato oggetto di attenzione da parte di tutti, prefettura, consiglio comunale, regione, provveditorato, ma non è stato fatto nulla, taglia corto, il SAP e tutti hanno fatto promesse non mantenute in premissa la politica nazionale con provvedimenti tampone senza lunga gittata, ma ciò concludono i sindacalisti e riguarda la maggior parte delle carceri. Problematiche della polizia penitenziaria e degli istituti di pene in genere sono state evidenziate pure da Giuseppe Mero, la segretario nazionale Federazione Sindacati Autonomi CNPP. Il personale di polizia penitenziaria è sempre più esposto a dei seri rischi per la propria incolumità fisica e psichica. Le carceri hanno bisogno di una seria ed urgente riforma, un vero cambio di passo che metta nelle condizioni ideali di poter lavorare al personale di polizia penitenziaria, impegnato quotidianamente a tutela della legalità e del trattamento negli istituti penitenziari di tutto il Paese. Grazie a tutti.